Come tutti gli anni c'è un tema da esporre, un tema da valorizzare e pertanto quest'anno l'ARMA nel suo calendario storico relativo al 2019 ha inteso celebrare il patrimonio italiano che è inserito nella lista dei patrimoni per l'UNESCO e lo fa nel quarantesimo anniversario dell'inserimento in questo elenco, in questo catalogo del primo patrimonio universale dell'umanità italiano. L'Italia conta 54 siti ed è il paese al mondo che annovera più siti all'interno di questa lista prestigiosa. Il calendario comprende tutti e 54 i siti distribuiti nelle 12 pagine principali che riguardano i mesi dell'anno e per ogni pagina vi è un aspetto dell'ARMA dei Carabinieri che viene approfondito e descritto. Si va ad esempio dalla descrizione di alcuni reparti speciali, tra cui mi piace ricordare il reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania, dal gruppo Intervento Speciale, ai reparti speciali stessi il NAS, il tutela ambientale, ma soprattutto non poteva mancare logicamente il tutela patrimonio culturale che in questo caso fa da padrone a questa carrellata di bellissimi disegni e di pagine pennellate con grande maestria e quindi tutela patrimonio culturale che ha iniziato la sua attività sul finire degli anni Sessanta. Primo esempio dell'attenzione che una forza di polizia pone sul patrimonio del nostro paese e anche primo esempio al mondo di una forza di polizia che intende avviare e strutturare un proprio reparto dedicato esclusivamente a questo settore la dice lunga per quanto riguarda l'interesse dell'ARMA verso questo settore che ormai è diventato un interesse storico.